Abbiamo ricominciato a giocare a Call of Duty ragazzi, è veramente figo quest'anno Spero che vi piaccia anche a voi sul canale perché ho intenzione di portare un bel po' di cose anche sul secondo canale Diciamo video che non avrei caricato qua magari, quindi mi raccomando iscrivetevi anche al secondo canale perché è qua sotto in descrizione Lasciate un bel mi piace al video, commentate e iscrivetevi alla campanellina Io vi auguro una buona visione Bene ragazzi, qui è Stephanie e bentornati in questo nuovo video della serie di Call of Duty Quest'oggi andremo a utilizzare il fucile a cecchino Ho sbloccato quasi tutti gli accessori di cui ho bisogno per tornare ad essere un M200 a tutti gli effetti Quindi fare un po' di quickscope, cercare di vincere i tutti contro tutti utilizzando la classe del cecchino Ovviamente abbiamo delle ricompense che sanno il fatto loro Approvvigionamento che può dare qualsiasi cosa La macchina da guerra per cercare di arrivare più velocemente poi all'elicottero di supporto e vincere la partita Magari in tutti contro tutti Ci mette un botto a trovare le partite Voglio giocare Cerchiamo di fare delle buone clip Possiamo usare ovviamente anche la nostra arma secondaria che è un fucile a pompa in ogni caso Fondamentale Here we go Cercherò di concentrarmi ovviamente Mancano due secondi Si parte ragazzi eh Come vi ho detto noi usiamo il cecchino Ok Iniziamo alla grane subito Stiamo attenti eh Perché qua ovviamente tutti contro tutti è facile trovare un nemico Immobile Va bene Bella qui Annaggia Mi è saltato addosso il fucile a pompa Eravamo in streak Tre di fila Vado nella mia zona raga adesso eh Via di qua Bella lì Caspita c'è uno qui Mannaggia Ma dove caspita eh Sento i passi ma poi svaniscono Oh mio dio Tu sei pazzo Ancora qua dentro sei a camperartela Ora faccio 20 kill Di fila Dove sono tutti Oh mio dio Non c'è nessuno raga Giuro Attenzione Oh oh Eh va bene Io esco col cecchino No Sono un genio del male Eccolo uno Dai Bravissimo Oh Ma guarda mi è montato sullo scalino Oh mio dio Mo qua tirano il mondo La cosa è morto? Devo vincere questa partita Con be pe 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 Sto arrivando a prendete Coglionbero Dai Riaffacciati dopo Ora entro io Sono stufato Oh no Oh mio dio C'è una torretta Alla davanti Oh mio dio Stai giuste? Sì ciao Il cinquanto Te lo fichi in tasca Dove sono i miei amici? Sì scemo Ciao Sì Dai che vi aspetto tutti Forza Vi aspetto Dov'è il mio headshot? Oh mio dio La mia artiglieria Oddio Il tempo di uscire Questo è già entrato Non la so usare Questa mi spiace Difficile vincere Col cecchino Ciao bello Ormai siamo agli ultimi secondi Yes Direte ma non era col cecchino È una special No come top 3 Cosa? No no sono primo Top 3 è un corno Oppure la migliore giocata della partita Ma come la prima giocata Si porta a casa subito Prima partita Lui dice top 3 Ma ero primo Che tra l'altro questo era un tentativo Sto provando a cambiare fra di loro Tutti gli accessori Per vedere quale mi piace di più Abbiamo sbloccato questa nuova ottica Sì potremmo anche provarla Però ha meno precisione Come vedete è bastato veramente poco Per riprendere la mano Non ho tirato neanche l'elicottero di supporto Non c'è stato il bisogno Però se partissi con una bella streak di uccisioni Potrei addirittura vincere un tutti contro tutti Senza mai morire E sarebbe il flawless Molto complicato Però ho fatto robe fighe Tipo anche 17 kill Checkmate senza dubbio una fra le più belle come map Mi ricorda tantissimo Terminal Quindi vabbè I feels sono quelli del passato Ehi là Uno è già andato Oppè Eh va bene Il quickscope ancora non possiamo fare Un accessorio importante Non è possibile correndo Mi abbia ucciso in quel modo eh That's my spot bro Eh yes Bella lì Allineato perfettamente Grazie Dai che c'è qualcuno qua Bella lì Quickscope no tattico Arriva Di là Ok al volo Oh my god Is this M200 Step me again E me la son cercata Però volevo fare la kill Figa Tutto e niente no L'ho preso Solo about the timing Oddio Ma Che cosa ho appena visto Oh mio dio no Sto sopravvivendo Alle cose in qui Dovrebbe normalmente Sopravvivere Oh mio dio no Rompi qui Ok Oddio un altro Oh io ho sbagliato Finita Finita lo sapevo Sbagli un colpo Ed è finita Operatore maschio Neutralizzato CP No È lui È lui Quello che sta vincendo Devo stare attento Ok Sì Sì Ma china da guerra Oh mio dio No 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 Eh Rinasco davanti a CP Uno a casa Sono morto No Questo era mio Secondo No Eh che cavolo È difficilissimo Miglior giocata Ancora lui Guarda che ho ucciso pure quello Perché non l'hai messo Stupidaggine Garrison ci sta Ha delle linee molto lunghe Sulle quali possiamo giocare E sfruttare il cecchino CP è ancora qua CP se la giocava molto bene Però Noi avevamo il cecchino Vorrei ricordarvi Comunque È più complicato Secondo me Rispetto ad altre armi Se non lo sai masterare Come si deve E andiamo sempre con il nostro cecchino Stavolta abbiamo provato a mettere un corpo diverso Oh cavolini Ce n'è già uno Aios Ok Facciamo vedere a CP Che non vincerà sicuramente Questa partita E la Hola Oh mio dio Che disgraziato Ti ho pure preso in no scope Eh no Di nuovo in Eh ma che caspita Non posso fare solo hit marker Mannaggia Dai Ma si Ma perché no Ma qualcos'altro Addio caro Addio bello È completamente fuori di testo Dai È appurato Si vede che non trovo nessuno 20 a 17 Ma sul serio Non trovo più nessuno Preso CP Meno male Oh mio dio Ma sei fuori Boom baby Bye Boom baby Bye Ok Wow L'ho colpito due volte Non è morto 23 a 28 Cioè perdiamo davvero la partita Si Poi Bella lì Ma come È finita la partita Mi dai la macchina da guerra Di nuovo secondo Però sempre la miglior giocata Della partita Incredibile 3 su 3 What am I doing Boom Boom No che brutta Questa clip Terribile Devo dire che il feeling Col fucile dal cecchino È tornato quello Di una volta Ragazzi Scrivetevi sotto nei commenti Dei classi Mi raccomando Lasciate tanti mi piace Fatemi sapere se il video vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi alla campanella Ragazzi Ci vediamo al prossimo Questo video Qua è per tutto Bye Ma ti rendi conto I tutti quattro tutti Su Call of Duty Sono tornati Ma chi ci avrebbe mai pensato Ciao a tutti Ciao a tutti